Davanti a pochissimi curiosi all'indomani della sconfitta nel derby di Giuliano, l'Avelino è tornato in campo per preparare la prossima sfida, quella di sabato sera, al Picerno di Longo, un match che si giocherà al partenio Lombardi. Non ci sono allenati Rigione, che si sottoporrà all'esame strumentale nelle prossime ore. Anche Liotti ha saltato la seduta e anche il duo Benedetti Varela, assente ormai da diversi mesi. Patierno e Tozai hanno lavorato a parte ed hanno lasciato, prima della partitella a ranghi misti a metà campo, la seduta. Michele D'Ausilio invece ha lavorato a lungo con il prof Luigi Gennarelli ed ha gestito i carichi di lavoro, così come Armellino, De Cristoforo, Cancellotti e Frascatore, che hanno corso ai lati del campo, saltando tutti gli esercizi con il pallone. Ad assistere all'allenamento dei lupi di Michele Pazienza, il DS Luigi Condò, che è rimasto per l'intera seduta a visionare il lavoro della squadra. Il gruppo Biancoverde tornerà a lavorare domani mattina al partito dei Lombardi, ancora una volta la seduta sarà a porte aperte.